Il Presidente Ugo Golotti del Circolo La Rocca, che oggi è in veste anche di giocatore, un bel torneo. Un torneo decisamente importante. Abbiamo avuto un record di presenze di 192 giocatori. È considerata una gara che ha avuto un eco quasi nazionale. Sicuramente la giornata si prospetta di ottimo gioco di golf. Questa manifestazione ovviamente fa parte del gruppo di manifestazioni di Parma Città Europea dello Sport 2011. È stata patrocinata anche dal Comune di Parma, quindi è un festeggiamento anche per il Comune di Parma e pensiamo che sia una manifestazione degna del nome di Parma Città Europea dello Sport. Tanti professionisti ma anche qualche VIP. Sì, abbiamo anche delle persone importanti sia nel mondo dello sport che nel mondo dello spettacolo che nel mondo del giornalismo. Non so, faccio un esempio, abbiamo Prandelli come allenatore della nazionale, quindi insomma abbiamo parecchi invitati che sono venuti a giocare qui da noi e che ci divertiranno insieme a noi. La settimana scorsa avete avuto paura, insomma, per quello che è successo? La settimana scorsa, io domenica scorsa stavo per rimandare tutto. Poi visto la partecipazione di tanti soci che hanno lavorato e l'ostraordinario impegno dei nostri dipendenti abbiamo deciso di rischiare il tutto e di portare avanti la gara lo stesso. Allora, Maria Concetta Giansoldati, segretaria del Circolo La Rocca. Oggi qua è un importantissimo torneo, circa 200 iscritti, è un torneo a squadre che rientra anche in Parma Città Europea dello Sport. Sì, questa è una manifestazione che difficilmente si riesce ad organizzare. Normalmente le gare che organizziamo hanno sempre molti partecipanti, però non come oggi. Anche perché questa è una gara a squadra in cui partecipano dei professionisti che sono conosciuti in tutta Italia e partecipano anche ai vari tour più importanti. Come ad esempio Napoleoni, poi abbiamo Bruschi, Baldovino Dassù, abbiamo tantissimi, bravissimi professionisti. I partecipanti, abbiamo detto, sono circa 200 e l'organizzazione della gara, dobbiamo dire grazie a Fineco, prima di tutto al Presidente che l'ha voluta moltissimo con la collaborazione del Comune di Parma e altri sponsor che sono il Pierificio del Ducato, Casa Modena, Monte delle Vigne, Re di Pane, Robi Profumi e Profumeria Charmant. Avete avuto anche qualche problema la settimana scorsa, insomma l'alluvione, avete lavorato molto per rendere il campo in ottime condizioni? Sì, devo dire che ai soci hanno lavorato tantissimo, sono venuti, abbiamo avuto una partecipazione incredibile, hanno tolto tutto il fango, avevamo tutta la Clebau scoperta di fango, i campi, le ultime buche sommerse dall'alluvione, quindi abbiamo lavorato 13-14 ore al giorno, abbiamo avuto degli operai bravissimi e siamo riusciti a ricreare una situazione normale, apparentemente normale, anche se con alcuni problemi, perché abbiamo ancora degli impianti che non riusciamo a gestire, insomma comunque in settimana tutto tornerà alla normalità. No, no, oggi è una giornata dove si rivedono gli amici, quindi deve essere una giornata distensiva, ovviamente quando ci saremo in campo cercheremo di dare il meglio, ma non più di tanto insomma. Sì, oggi parliamo di golf, cerchiamo di staccare un po', visto il momento un po' particolare del calcio. Massimo De Luca ha già giocato qua, sentivo poco fa, ha già giocato qua su questo campo, quali sono le parti più difficili di questo percorso? Purtroppo ho giocato una sola volta, diversi anni fa, con mio amico e collega Paolo Pacciani, che è il socio qui, la sensazione che ho è ricordo una specie di giardino molto gradevole e molto mosso, e quindi con le difficoltà di tutti i campi mossi che comportano una certa tecnica. Però purtroppo non lo ricordo benissimo, per cui oggi sarà una scoperta, insomma. Qui siamo in squadra, quindi non c'è da temere, c'è da sperare che ognuno di noi faccia il meglio, quindi mi auguro che Cesare, come sta facendo bene in nazionale, faccia bene oggi in campo. Ma in realtà siamo qui per farci una bella passeggiata, poi c'è il pro che tirerà dei buoni colpi, noi ci arrangeremo. Questo è un campo molto, molto tecnico, è un campo dove comunque devi saper tirare un po' tutti i tipi di colpi. Ci sono state alcune modifiche, tra l'altro sono stati bravissimi qui al circolo a rimetterlo in piedi dopo mezzo all'ovione di settimana scorsa. Quindi veramente un plauso va a tutti gli operai che magistralmente e con fatica sono riusciti a metterlo a puntino proprio per questa manifestazione. Tra l'altro è una manifestazione importantissima proprio perché è legata allo sport e alla città di Parma. Grazie a tutti.